Buongiorno a tutti, grazie per l'introduzione. Ora stiamo a parlare del effetto di corrosione stress sulla struttura della città e proposte una tecnologia per evitare questo fenomeno. Le pinze e le plette di città diventano protagonisti della struttura e questo necessita un'esercizio addirittura per le ricerche. Il città, in realtà, è un materiale brutto. Le ricerche derivano dal fatto che derivano dalla presenza di effetti sulla superficie degli elementi di città. Questi effetti possono evolvere in una frattura macroscopica fino al collapso dei elementi strutturali. In addition, per la maggior parte della ceramica città è osservato un'esercizio aumenta con il diamante in ambienti ambienti. Maikowski e Freeman hanno già dato una interpretazione meccanica a questo fenomeno. Il loro modello per la corrosione stress è illustrato questa foto in tre passaggi. Nel primo stagio, l'acqua e le bonde di COC interaggiamo. Questo significa la creazione di un bonde di idrogeno tra l'atomo di COC e l'idrogeno e l'interazione tra l'orbitale di l'albero tra l'oxigeno e l'atomo di silico. Nel secondo stagio, troviamo la ruptura dell'attomo di breccia originale e la creazione di due nuove bonde. Uno tra l'oxigeno e il silico e uno tra l'idrogeno e l'oxigeno. Inoltre, troviamo la ruptura dell'adrogeno e la creazione di due nuove superfici. Staticity of glass o la corrosione stress risulta dal fatto che il frutto propagandolo anche se il fattore stress di intensità di stress è meno che la difficoltà. in questo fattore all'interno le fatture tipiche di una velocità di crack sono bloccati come funzione di rilascia di energia di energia meccanica. In domenze 1 e 2 un tipto di un crack è lentamente anche se la concentrazione stress è sotto il valore di difficoltà. inoltre nella terza regione la velocità di crack è riuscita tra 10 risultati a 3 e 1 m per seconda. La corrosione stress affetta i primi e i primi domani come vedete nella figura alla fine. In generale la corrosione stress causa la riduzione del fattore per cui la propagazione del fattore critico inizia e in generale l'incorso del fattore velocità. Il nostro studio è per evitare e per limitare questo effetto dell'acqua e dell'umidità. alcuni studi e per fare questo è fatto dall'applicazione di hydrophobiche alcuni studi hanno già riportato l'effetto fattore di fattore per esempio questa pubblicazione di l'esercizio con protettive l'esercizio 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 con l'esercizio con silicone sono testati in l'esercizio in questo grazie è rappresentato il stress dell'esercizio verso la probabilità di rischio l'esercizio in questo vediamo che i fattori rappresentano le semplici con silicone mentre i fattori rappresentano le semplici come vediamo i spasimenti con un più strato semplici testati senza silicone e questo è relato all'esercizio dell'esercizio l'esercizio dell'esercizio dell'esercizio utilizzare la tecnologia UV tettucaria e questo significa solvente solvente trattamento 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 attraversario per il sistema continuosчик di flusso e nascosto pieno nel tranca tra fattori sono Floralimpi e Abec-Griller potete fotopolimerizzare e copolymerizzare La fotopolimerizzazione è realizzata da un iniziatore, Daraquo, mentre il link tra il substratto e il codice è garantito, ma tra i nodi di soleno. Vari formazioni sono testate e sviluppate, ma in questo evento vi mostrerò il test che abbiamo fatto solo su tre formazioni. Agenti di soleno hanno la possibilità di formare un bond durabile tra i materiali organici e inorganici. In questo caso, grazie agenti di soleno, c'è la creazione di bond COC tra il substratto e il substratto, e questo garantisce una grande performance in termini di adhesione. Il tutto il lavoro è diventato in tre strade principali. Nel primo punto troviamo la produzione di condizioni di condizioni. Dobbiamo scegliere i migliori processi di bilancio o applicare il condizioni di condizioni di condizioni o identificare le condizioni di cura. Dobbiamo controllare le condizioni di cura grazie alla trasformazione di infrarietto e grazie agli testi di infrarietto. L'ultima parte consiste in evaluare questi condizioni, e quindi evaluare la trasparenza, l'estabilità, la permeabilità, le proprietà meccaniche, l'addizione e le tecniche dei condizioni di condizioni di condizioni di condizioni di condizioni di condizioni. Abbiamo scelto due tipi di silenzione, rocce, inapio e entano. Abbiamo applicato il condizionamento per quantificare l'hydrofobicità dei condizioni e la permeabilità dei condizioni abbiamo usato il testo di incontrazione e il testo di vipro di trasmissione di acqua. In questa tavola ci vediamo il testo di incontrazione di ebecrylina e fluorulina più ebecrylina e fluorulina e come potete vedere quindi ebecrylina e fluorulina hanno un angolo di contatto di 100 gradi. Un angolo di contatto più di 100 gradi garantisce che il condizioni di condizioni sia ebecrylina In addition, possiamo vedere che ebecrylina e fluorulina ebecrylina hanno permeabilità simili simili a PET che è conosciuto per i valori dei valori dei permeabilità. Abbiamo anche fatto un testo di tensile sui incontri e in queste due foto possiamo vedere i risultati. Come possiamo vedere il polizio di ebecrylina ha un valore più più di potenza in contrasto con la formazione di fluorulina. l'addizione dei coattivi era molto grazie a l'immersione del testo di acqua e a testo di labbra che non la laminazione era riportata durante l'immersione e questa foto ha rappresentato la produzione di sample e il testo di labbra che sono questi sono i risultati che abbiamo ottenuto come possiamo vedere fluorulina più ebecrylina e ebecrylina ha raggiunto un valore di adhesione in poi formazione fluorulina in particolare in questo caso fluorulina più ebecrylina ha raggiunto un valore di 25 megapascal testo ultimo testo cruciale per evaluare l'effettività di corrosione il testo di labbra coaxial abbiamo scelto questo testo per minimizzare l'effetto dell'esercizio delle sample in questa foto possiamo vedere le sample che abbiamo usato e anche possiamo vedere il patto dopo fare un testo coaxial abbiamo scelto due velocità un'esercizio un'esercizio e un'esercizio e un'esercizio per applicare l'esercizio l'esercizio abbiamo fatto questo per raccontare l'effetto dell'esercizio effettiva solo le sample testate a velocità ora in questa slide vedo i risultati che abbiamo ottenuto in particolare abbiamo analizzato statisticamente analizzato l'esercizio testate grazie a distribuzione di acce e abbiamo eserciato i risultati che rappresentano le semplici testate a velocità mentre le semplici rappresentano testate a velocità come vediamo il semplici testate a velocità più 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 velocità e questo è l'effetto dell'esercizio in conclusione voglio dire che la formulazione Fluorolink più 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 attività e l'impermeabilità l'esercizio sarà l'efficienza dell'esercizio e verificare l'esercizio del compound come adesivo per connessione tra i strumenti cambiare l'esercizio è possibile trovare diverse formulazioni per adesivo ma generalmente che hanno un valore di adesivo come vedete in questa foto vorrei ringraziare Politecnico in Torino per supportare questo progetto i studenti Stefano Forzano per aiutare durante i test e ovviamente tutti per la testa grazie 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 a